Da domani, lunedì 10, la nostra regione entrerà in fascia gialla. I ricoveri sono raddoppiati da Natale. C'è record di contagi da Covid, oltre 5.400. Da domani, dunque, la nostra regione entrerà in zona gialla e scatteranno delle novità. Da domani, intanto, i tempi per la somministrazione della dose booster diventano più brevi, rendendo possibile inocularla dopo quattro mesi. Il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio, tranne che nei negozi e per i servizi essenziali, già indispensabile per salire sui treni insieme alla mascherina FFP2, ora è necessario per bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per mangiare anche nei locali e all'aperto, per entrare negli alberghi, andare a fiere, usufruire di impianti sci nei luoghi di svago e della socialità. Quello base è ottenibile anche con un tappone. Poi dal 20 gennaio serve per accedere ai servizi alla persona, dai berbiere, ai parrucchieri e agli estetisti. Dal 1 febbraio il super green pass avrà durata sei mesi, calcolati dall'ultima dose di vaccino ricevuta. Sempre dal 1 febbraio il certificato base è necessario per accedere a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e le attività commerciali, tranne che per quelli legati a esigenze essenziali e primarie della persona. La scuola, anche in Abruzzo, domani 10 gennaio si torna a scuola. In quella dell'infanzia le maestre devono indossare le mascherine FFP2, stesso obbligo nelle classi delle primarie e secondarie dove ci siano alunni che non hanno la mascherina perché esentati per specifici motivi. Alle materne in presenza di un positivo in classe scatta la sospensione delle attività per 10 giorni, mentre alle elementari con un solo caso si applica la sorveglianza che prevede un tampone al primo e al quinto giorno dalla scoperta del caso e con due si va in dad per 10 giorni. Per medie e superiori la norma prevede invece tre diversi step, con un caso di positività si continua ad andare a scuola in presenza e si applica l'autosorveglianza e l'obbligo di mascherine FFP2 con due casi chi è vaccinato con il booster o guarito da meno di quattro mesi e resti in classe e non vaccinate i vaccinati e guariti da più di 120 giorni vanno invece in dadda con tre positivi. Tutta la classe resta a casa e segue le lezioni da remoto per un tempo massimo di 10 giorni. Fino alla fine di febbraio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado gli studenti che dovranno fare autosorveglianza potranno essere sottoposti a testa gratuitamente. All'aperto bastano le mascherine chirurgiche ma in alcune situazioni di affollamento servono le FFP2, il personale dell'università della scuola sanità e forze dell'ordine deve vaccinarsi. Secondo gli esperti la variante omicron e latali soprattutto i no vax hanno portato a questa situazione e un'impennata di ricoveri e contagi in Abruzzo. D'altro canto mai come ieri però c'è stato un record di vaccini, 17.000 in un solo giorno per proteggersi dal virus igiene e mascherine anche per i vaccinati. Intanto sono stati eseguiti quasi 50.000 tamponi antigenici per la popolazione scolastica. Tutt'oggi oltre 1.100 positivi nella mattinata odierna. L'apertura della scuola come detto è prevista per domani anche se non pochi sindaci stanno studiando la situazione. Già è entrato in vigore l'obbligo di vaccino per gli oltre 50 anni. Grazie a tutti.